E continuando a parlare di tecnologie avveniristiche, uno dei temi proprio che riguardano le tecnologie, ne abbiamo tante, ne abbiamo diverse, sono molto avanzate, il problema è poi come si riesce a utilizzarle davvero, come si può davvero inserire tutta questa carica di tecnologie e di innovazione all'interno delle imprese. Approfondiamo questo tema con Marco Ferrando che è Hido of Artificial Intelligence R&D Lab di Val Group e Stefano Dindo che è CEO di 012. Benvenuti! Grazie Francesco. È davvero un piacere. Grazie. Grazie mille. Allora appunto il tema è un po' questo, l'intelligente artificiale è un grande potente motore, l'abbiamo visto anche in altri interventi, ma come si fa a mettere a terra tutta questa potenza? Come possono davvero le aziende sfruttare l'intelligenza artificiale? Beh, chi ci ha preceduto ha detto con grande chiarezza quali sono le potenzialità che questo tipo di abilitatore fornisce e fornirà alle nostre imprese. Per cui mi concentro su due degli ingredienti che considero fondamentali per questo tipo di percorso. Il primo riguarda i dati, che naturalmente è stato detto, è il carburante insomma per questa tipologia di iniziative. Il dato è fondamentale visto in termini aggregati e quindi quello che consiglio alle aziende è di lavorare al più presto possibile per creare al proprio interno una cultura del dato che significa naturalmente mettere a fattore comune le informazioni, correlarle e lavorare per governarle con particolare attenzione a quelli che sono gli aspetti della sicurezza, già stato detto prima, ma anche naturalmente della conformità a quelle che sono le normative. Il secondo punto è delle competenze e qui si può affrontare su diversi livelli, naturalmente quelle tecnologiche, ma in questo caso voglio concentrarmi su quelle che riguardano il management, il top management delle imprese, coloro che devono guidare il cambiamento dei processi e la trasformazione all'interno delle organizzazioni. Il nostro ruolo è proprio questo, essere fondamentalmente degli abilitatori capaci di affiancarci ai processi e al management delle imprese per mettere a terra esattamente il potenziale della tecnologia. Ecco tutto questo che abbiamo visto, questo che accade sull'intelligenza artificiale, accade di fatto sul cloud, Stefano. Molti hanno un'idea che il cloud sia semplicemente uno storage o qualcosa dove metti dati, in realtà ci sono degli altri benefici che si hanno spostandosi nel cloud, quali sono? Corretto, assolutamente tutti pensano al cloud principalmente come storage e computazione. In realtà prima è stato detto che il cloud è un insieme di mattoncini, dove io ho il mattoncino dell'intelligenza artificiale, dell'IoT, dell'Internet of Things, ma anche di quello che sono il machine learning. Io posso mettere insieme questi mattoncini per costruire la mia soluzione. Il beneficio che porta principalmente in cloud è il fatto di mettere a disposizione una tecnologia importante a portata di tutte le aziende, che prima era esclusiva per grandi aziende che potevano investire enormi capitali per riuscire a realizzare delle soluzioni. Ora possono avere tutte le aziende che possono sperimentare velocemente le loro soluzioni e quindi capire se la soluzione digitale che affiancano a un prodotto può portare del valore al consumatore, al processo produttivo e quindi il cloud a tutti gli effetti è un abilitatore all'evoluzione digitale. L'altro aspetto importante del cloud computing è il fatto che questa prototipazione rapida sta portando anche dei cambiamenti culturali all'interno dell'azienda che possono a tutti gli effetti sperimentare velocemente e quindi non c'è più l'idea di partire con un progetto che deve sicuramente funzionare ma parto con piccole soluzioni, le verifico e poi decido se portarli in produzione oppure se magari rivedere quello che è il mio progetto. Ecco, normalmente le aziende quando si spostano sul cloud magari hanno qualche resistenza. Ti volevo chiedere qual è lo svantaggio che temono e qual è magari invece il vantaggio inaspettato che poi si ritrovano facendo questa scelta. Allora, lo svantaggio sicuramente è il fatto che il cloud si evolve velocemente quindi c'è bisogno di molta competenza, competenza diversificata quindi non basta più solo la conoscenza tecnica ma bisogna avere la conoscenza umanistica, mettere insieme tutti questi tipi di aspetti e il vero valore è proprio la capacità di fare sinergia per riuscire a mettere a fattore comune tutte queste competenze che vengono richieste. Quindi le aziende devono imparare che non è più solo un aspetto tecnico ma ci sono molteplici variabili da mettere insieme. Un vantaggio che porta il cloud computing ovviamente sono tutta una serie di scalabilità un time to market ridotto. C'è da dire, che voglio fare anche una precisazione, che ci si aspetta che il cloud è la soluzione alla sicurezza al 100%. In realtà quando si parla di sicurezza in cloud si parla di sicurezza condivisa quindi il cloud provider risolve una serie di problemi ma poi servono tutte le competenze per andare a portare sicurezza su quelli che sono gli applicativi, le soluzioni che vengono realizzate on top alla tecnologia. Quindi bisogna essere consapevoli che si devono mettere insieme competenze per raggiungere il massimo livello di sicurezza. Ecco, uno dei temi che riguardano un po' la sicurezza ma è la sicurezza del posto di lavoro è proprio questa possibilità che l'intelligenza artificiale possa erodere dei posti di lavoro attualmente utilizzati dalle persone. È vero Marco, esiste questa possibilità e voi come affrontate questo tema così delicato? Questo è un punto rilevante. Io preferisco parlare di un cambiamento di quello che è il nostro modo di lavorare o il tipo di lavoro che facciamo come in effetti è accaduto nel corso delle grandi rivoluzioni tecnologiche e industriali precedenti e è lecito aspettarsi che nel prossimo periodo alcune capacità dell'intelligenza aumentata, quelle cognitive possano in qualche modo affiancarsi e fare automaticamente alcune delle attività che oggi vengono fatte dalle persone. Parliamo però delle attività a più basso valore o quelle di tipo rutinario. Questa è un'opportunità in realtà perché le imprese possono concentrarsi sulla qualità ed è quella la sfida che occorre vincere per le nostre imprese italiane e sui mercati globali. Per Vargup questo è un tema particolarmente sensibile e rilevante per questo stiamo affiancando la nostra offerta progettuale e tecnologica anche un'offerta per aiutare l'imprenditore, per aiutare il top management nel guidare quella che è la trasformazione in questo caso il people and change management nell'organizzazione. Bene, il tema è assolutamente affascinante io vi ringrazio, grazie mille per questo approfondimento anche sul tema stiloso. Grazie. Grazie. Grazie.